mentre i 5 Stelle rilanciano la loro ricetta alternativa, il reddito di cittadinanza. Questa è una misura che copre neanche un quarto delle persone che oggi vivono sotto la soglia di povertà, una misura che ancora una volta è una mancetta frammentaria, non strutturale, che prende in giro gli italiani. Il Movimento 5 Stelle propone un'altra misura che è il reddito di cittadinanza, che pensa a creare posti di lavoro.